La situazione dei parcheggi in città è ancora nel caos, con un bando di assegnazione delle aree di sosta ancora da affidare, parcheggiatori abusivi ovunque e altri che aspettano di sapere il loro futuro con la nuova gestione. Giovanni D'Ercole, di Viva Avellino, ha sollecitato più volte l'amministrazione comunale, ma anche il comando dei vigili urbani, per effettuare controlli ed evitare la diffusa illegalità. A Avellino di fatto viene estorto denaro a quasi ogni automobilista che vuole parcheggiare le automobili nelle ex aree chiuse in raso date in affidamento. Quella è una vera e propria estorsione perché è noto a tutti che qualora qualcuno si rifiutasse di pagare il parcheggio verrebbe sottoposto a minacce neanche velate di rovina della macchina se non di peggio. Quindi di fronte a questo mi sembra che sia obbligatorio un intervento dei vigili urbani e anche della procura che devono verificare ipotesi di reato che a mio avviso sono sotto gli occhi di tutti. Voi avete sollecitato un po' l'amministrazione a fare qualcosa? Non solo, io ho proposto all'amministrazione, la quale non è capace neanche di far partire il bando, di creare un meccanismo differente di riscossione del parcheggio per cui sia possibile entrare ed uscire nelle aree chiuse in raso con un'apposita sbarra elettronica e biglietto che controlli quindi chi entra e chi esce.